Ivarini, possiamo dire che il coronamento, questa vittoria, è il coronamento migliore ad una settimana così così? Sì, sono contento per i giocatori, per i tifosi nostri. Mi è piaciuto molto l'umiltà che abbiamo avuto tutti, tutti insieme, sia i tifosi della tribuna, della curva, hanno incitato tantissimo, ma hanno avuto anche loro tantissima umiltà perché hanno capito le difficoltà di questa squadra. La squadra ha dimostrato compattezza di gruppo, ha dimostrato umiltà in campo, hanno sofferto. E per la prima volta questa squadra è sembrata andare oltre i propri limiti, sei d'accordo? No, io lo dicevo sempre, purtroppo noi siamo partiti, l'ho detto in settimana, con un pizzico di presunzione tutti quanti perché pensavamo che potevamo fare di un sol boccone questo campionato, ma non è così, perché avete visto oggi il Siena, una squadra formata da grandissimi giocatori, non aveva mai perso fuori casa, i giocatori che ci attaccavano in otto persone, le partite, i campionati si fanno bene se ci sta questo spirito che abbiamo avuto oggi, di grandissima umiltà, di grandissima applicazione tattica. Abbiamo concesso veramente pochissimo spazio, ricomponavamo veloci, oggi non abbiamo preso ripartenze. Mi sa però, è inutile negarcelo oggi, mai ti avevamo visto così in panchina, praticamente è scatenato 90 minuti, si vedeva che la sentivi parecchio. Sì, ma anche i giocatori, ma anche la gente, io ho detto anche, io sentivo la tribuna, sentivo la curva, tutti uniti e così si ottengono i risultati. È chiaro, da parte mia ci deve stare attenzione, ci deve stare stimolo, tutto quello che posso dare lo devo dare. Un bello nell'uovo, possiamo dirlo, qualche ripartenza un po' troppo lenta? Bravissimo, sì. Noi avevamo preparato la partita a non concedere spazio tra le linee, perché loro erano molto bravi con gli scarichi degli attaccanti, e quindi abbiamo non aggredito alto la squadra avversaria ed eravamo messi molto bene a livello di blocco squadra, corti, stretti, però soprattutto nel primo tempo potevamo fare meglio in fase di ripartenza, ma adesso da queste basi qui bisogna andare a migliorare il tutto. Sentiamo a Dio come sta. A Dio ho avuto un problema alla caviglia, ma se ci sta questo spirito anche gli infortuni si ricoprono prima, perché ci deve stare la voglia da parte dei giocatori di lottare, di sacrificarsi, e penso che a Dio in settimana spero almeno che recuperi. Azzario, una sconfitta qui a Teramo, un gol, quello del 2-1, su cui avete protestato parecchio? Sì, perché credo che il nostro portiere sia stato impedito e ostacolato dall'uscita, e poi da lì la partita per noi si è messa in salita, però io credo che oggi la mia squadra abbia disputato una buona gara, è venuta qui a Teramo cercando di giocare, imporre il proprio gioco sempre, comunque abbiamo creato, peccato per questa sconfitta perché sicuramente ci penalizza molto, però credo che ci possa stare, abbiamo tentato in tutte le maniere di recuperarla, ma non ci siamo riusciti, non ce l'abbiamo fatta. Sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché sono venuti qui, hanno giocato, non abbiamo fatto nessuna barricata, abbiamo cercato sempre di impostare il gioco, abbiamo affrontato il termo a viso aperto, perché è giusto che noi facciamo così. La spalla vince, la vetta si allontana. Sì, ma l'obiettivo nostro è quello di riuscire ad arrivare al terzo posto, quindi oggi quello che dobbiamo fare è prendere spunto da questa partita, cercare di capire dove sono stati gli errori, migliorarli e poi andare avanti. Il campionato è lungo, l'obiettivo nostro è lì, non è lontano, perciò dobbiamo continuare a lavorare.